Procede in aula la discussione sulla realizzazione del ponte sullo stretto, a che punto sono i lavori? Ci vorrà ancora molto tempo e soprattutto sarà realizzata quest'opera? Ci vorrà qualche settimana, abbiamo incominciato nelle commissioni trasporti e ambiente della Camera dei Deputati le audizioni di tutte le associazioni che i diputati hanno ritenuto di chiamare. Soprattutto stamattina abbiamo sentito il WWF e altre associazioni che hanno mostrato la loro contrarietà all'opera del ponte. Ma soprattutto il dibattito è aperto, l'approvazione di questo decreto però bisognerà portarlo in aula entro qualche settimana. Quindi tempi rapidi, di grande lavoro, di ascolto, di confronto, però poi l'obiettivo deve essere raggiunto, cioè quello di approvare il decreto e vedere realizzato l'iter per realizzare il ponte sullo stretto. Presidente, in tutta onestà lei reputa quest'opera prioritaria oppure non si dovrebbe prima fare un lavoro per le infrastrutture regionali, per esempio in Sicilia e in Calabria? Voglio dire, vedersi concretizzare il sogno di essere collegati non solo con gli aerei o con le navi alla quella che noi chiamiamo la terraferma, al continente. Quindi sicuramente è un'opera prioritaria perché il caro trasportaerei ma anche il caro navale, l'inquinamento delle navi che molto spesso le stesse associazioni rimarcono che c'è troppo traffico marittimo, la richiede uno sforzo perché la Sicilia ha diritto ad avere una vera continuità territoriale, soprattutto dal punto di vista ferroviario, non solo Sicilia con la Calabria ma Sicilia con Berlino. Sul piano dell'impatto ambientale lo studio di fattibilità insomma lascia tranquilli oppure i dubbi degli ambientalisti sono fondati? Ci saranno tutte le verifiche, sono sicuro che gli stessi studi che le associazioni mostrano, cioè quelli di 50 anni fa, possono essere fugati perché oggi la tecnologia, le tecniche di costruzione si sono sicuramente volute, ma c'è anche una maggiore sensibilità per il rispetto dell'ambiente. Ma allora faccio una domanda, è più inquinante continuare il traffico marittimo o comunque è più agevole invece favorire il traffico ferroviario con treni che magari vanno ad idrogeno? Questa è una domanda che allora rivolgo anche alle stesse associazioni e se però la domanda principale è diritto o no dei siciliani e degli isoleani avere una vera continuità territoriale? Grazie per la visione!